Non è alluminio, questo dentro è un'anima di ferro, poi lo vedi che violenza. Hanno prima sfondato il cancello e poi si sono diretti verso l'abitazione tentando di entrare attraverso una finestra. Un violento assalto in pieno giorno nelle campagne retine tra Montagnano e Monte San Savino. Due malviventi hanno infatti provato ad introdursi nell'abitazione di Francesco Macri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. È stata la colfa della famiglia a mettere in fuga i banditi, iniziando ad urlare. All'arrivo di Macri erano già fuggiti. Un tentato furto aggravato, una possibile rapina perché c'è il dubbio che uno di questi assalitori avesse un'arma con sé, almeno quanto risulta la testimonianza della persona che collaborava con noi in casa. La particolarità di questo evento è che è stato particolarmente sfacciato in pieno giorno con una macchina scura che si è anche sicuramente danneggiata per sfondare questo cancello e rompere il sistema automatizzato. Quindi c'è proprio delle tracce di vernice. Sicuramente potrebbe essere una macchina rubata e la coincidenza segnalata dai carabinieri è che nei giorni scorsi è stata rubata appunto un'audi scura di grossa cilindrata a una 6 berlina. E così si è immaginato che gli eventi potessero essere collegati. La necessità di una maggiore sicurezza è stato negli anni un cavallo di battaglia di Francesco Macri che dopo quest'ultimo spiacevole episodio continua a portare avanti a gran voce le sue battaglie politiche. Qui bisogna lavorare su due fronti. Quello che mette le condizioni cittadini di difendersi in maniera adeguata senza rischiare incriminazioni eccessive. Mi riferisco all'ampliamento della legittima difesa e all'abolizione dell'eccesso colposo di legittima difesa. Dall'altro dobbiamo lavorare sull'inasprimento delle pene rispetto a questo tipo di reati.